ecco quello che ci teniamo a dire è che comunque siamo appunto molto convinti della strada intrapresa che è una strada appunto che promuove più tutela della salute e più benessere dei cittadini delle cittadine e siamo appunto convinti di continuare sempre più a promuovere cercando anche di informare a livello politico ma anche informare cittadini e cittadine sui benefici della natura e della biodiversità di cercare sempre più di creare nuovi spazi sfruttando aree esistenti e aumentare sempre più la biodiversità cercare appunto di coinvolgere tutti gli attori possibili in questo processo in questo cammino e quindi a tutti i livelli cercheremo di fare rete nella nostra città perché perché tutti si muovono appunto in questa direzione